Saranno 23 gli espositori che da sabato 2 a lunedì 4 ottobre dalle 10 del mattino fino alle 22 daranno vita in Piazza del Popolo alla 67esima edizione della mostra Mercato dei Fiori e delle piante ornamentali. La tradizionale manifestazione che vede protagonista il settore florovivaistico punta a colorare anche quest'anno il centro storico della città. Confermate le misure di sicurezza adottate anche per altri eventi. Come per la fiera di San Nicola infatti anche l'accesso alla mostra Mercato dei Fiori sarà regolamentato dall'uso della mascherina e dal possesso obbligatorio del Green Pass che sarà controllato a campione sia all'ingresso che all'interno del perimetro della manifestazione. Siamo alla 67esima e quest'anno ci saranno anche gli obbisti in Piazzale Collenuccio, abbiamo voluto dare questa possibilità visto che alla fiera di San Nicola erano stati esclusi e ci sarà il Green Pass e quindi il controllo come è stato fatto alla fiera di San Nicola, quindi manteniamo coerenza in quello che l'amministrazione ha voluto portare avanti. Purtroppo il Covid ha fermato la possibilità di fare altre iniziative ma comunque avremo il 2, il 3, il 4, la piazza Fiorita quindi invito a partecipare a questo evento che è storico per la nostra città. Siamo entusiasti ogni volta che viene la mostra di Fiori a Pesaro, noi partecipiamo da tantissimi anni come Garden Center Florio e come dicevo prima cercheremo di portare la cultura del giardino d'autunno, quindi il balcone, rinnovare il giardino con tutte le piante autunnali, i loro colori, la loro bellezza e questa è una cosa che stiamo facendo anche adesso nel Garden, stiamo promuovendo l'autunno in fiore, è un progetto molto bello, stiamo coinvolgendo anche tanti bambini che cominciamo a piantare i bulbi di questo periodo, quindi lo porteremo qui anche in piazza a proporre come progetto. Confermata anche l'esposizione di bonsai che sarà collocata sempre in piazza del popolo. I portici di Palazzo Ducale accoglieranno invece gli apicoltori da un lato e le opere del pittore e ceramista Tiziano Donzelli dall'altro, mentre per la prossima edizione, quella del 2022, sono diverse le proposte e i progetti che verranno discussi nei prossimi mesi per rinnovare ed ampliare l'offerta della manifestazione. Come abbiamo già detto in conferenza stampa, vogliamo organizzare per il prossimo anno qualcosa di più innovativo, parliamo di transizione ecologica e quindi è giusto anche partire dai florovivaisti e quindi ci saranno dei convegni e adesso faremo un primo incontro tra qualche mese e ci siamo appunto messo come impegno per il prossimo anno. L'idea appunto è una visione più grande di questa fiera, mi piacerebbe vedere questa piazza sì piena di colori come adesso ma forse più strutturata, più strutturata come un giardino in cui la gente ci possa camminare, passeggiare e guardare come si evolvono i giardini, come è concepito uno spazio, i volumi, le masse, quindi un lavoro quasi da paesaggista e l'idea di prendere più spazi della città e adibirli a esposizione e vendita. Se ne discuterà a gennaio, siamo d'accordo con l'assessore, abbiamo già preso in calendario gennaio in cui ci ritroveremo e potremo discutere, parlare e vedere che cosa si può fare perché poi magari c'è il covid che ancora impazza e non riusciamo a fare niente un'altra volta però l'idea c'è.